trebbia è to la questione è la quale è la quale è il suo lavoro la quale è la quale è il che mi chiamo e la quale è la quale è la quale è il suo lavoro questo è lo stesso tempo ha l'elemento del cobi e del artizio è 3% ma la probleme è la problematica perché mi riconosce il nostro non solo non solo ma ma non la problematica è la problematica è una problematica è una problematica è una problematica è una problematica non si non. Poteva il mio Dattamo con lui, si c'è vicino il mio cuore, si c'è vicino il mio earth, si c'è vicino il mio figlio, se poteva un tuo nome, se poteva un tuo nome, mancina la sua non ho! Non si è.. La mia infirmiamento che ce problema è tutto, è un caire che ci sono gli anni, Non, 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 non. E' un po' di più. Non, 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 non. Non, 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 non. A questo, l'obiettile era una volta per i suoi problemi, e la mia risposta è una distanza in confesa, perchè per lei la mia discuta, è quello che ha fatto, le persone che hanno fatto i suoi amici, rispondono, rispondono. Questa è la mia funzione, la mia funzione, la mia funzione è la mia funzione. Perché il nostro diplomato è molto importante Perché il nostro diplomato è molto importante Quindi è tutto il nostro, è tutto il nostro, è proprio l'alpha Ma tanto che ho fatto, ho fatto il nostro diplomato Non c'è il nostro, non c'è quello Il faut consulter la gente E non c'è la persona E non c'è la persona Io sono un politico Io faccio l'economia politica e le finanzze Non! Non c'è la persona che non c'è la persona Ma non c'è la persona Ma non c'è la persona Non, non c'è la persona Ma non c'è quello che ho fatto Se faccia il fatto diplom Se faccia il fatto di franzo Se faccia il fatto angli Sa faccia il fatto di tutto il peso Non, non c'è la persona La persona non c'è la mano Si faccia il fatto Ciao! Ma non c'è la persona Ma non c'è lazione Ma Anna Anna è il profeta di Bokeh e il m'appelle Assana Babeta il m'appelle Assana Babeta j'ai écouté le profet de Bokeh Assana Babeta il m'appelle Babeta il m'appelle il m'appelle il m'appelle il m'appelle Babeta il m'appelle il m'appelle et ensuite il m'appelle il m'appelle il m'appelle ANA cela vend律 cela vendue cela vendue cela vendue cela vendue nalwera inafindi tubakara inafindi landumara inafindi miriforakara inafindi bagara inafindi wafala sana babetabe ama babakelde kolo lando manara, lando manu almanakere imi makonko maiganya mama semira na yamana nasira itala nkwarte kolo mwuta makono itala nkwarte kolo mwuta makono itala nkwarte kolo mwuta makono itala nkwarte kolo mwa kwa labui aboke febri nkili manane wangafala ibe bayi baba landuma anara kwa labui mafala di bokebri landuma alasiri mwuna kona kwa labui landuma alasiri nana yati 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 ioplata yaki yati 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 Attila amêta 6-87 il fa la il barrile primi il fenanto bokeh il mona modeli oi parce que sarà canana nera il michele de colo il simona le gouverneur qui est devant toi là ou a côté de toi là c'est un zero pour moi s'il est de bokeh c'est pas comme ça qu'il faut gérer bokeh je les darkest c'est ce que vous avez je vous en prie la classe qui est là et moi l' gerçek non Non, 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 non. 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 Non, 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 non Miserable. E tu e ma boke, a zero credi moissi, non c'est l'unica, ma non c'est l'unica si è l'unica. Nafè moulou, il m'a rannato alla alfa-rapovoirma. Nafè moulou, il m'a rannato alla maninke contra. Nafè moulou, il m'a rannato alla alfa-raima. Ragniari. Nongka suri. Nongka govormant peri. Nifini racista di kineghe. i tambabita i affalane toieta lanti riboke i sori da summa moutama i moussori da su dekolo ribaba lando manara monga verifiye ma parceka tanyi di modelli a farne parceka ma kill dekolo ndebou ma cortera i bunde na etama i dorikwa in fase minima i inga krenye be i ule falame be i kamari hôpital masi mbaba eske ya kolon mi naram minima boke bofa eske ya akobri kwanti kolon ima kolon na walike yomuna paske boke to hot gine praske lagine birina walike krenye minibah menba nge mille dollars suron par mois mille dollars par mois amuna i wawama sen fe alfabe adime na kontr fe na alfa kontr nangamba adime an fin da alfara an fin di mange kweta la mini mini ma denare or mini ma denare sese mini ma denare di ayimaw nge wale mana alami ravi rafang i tan nangando naki i ne isori la dimma bokeke ma dimmi ma nge walfe imi yata kolon imi kelde kolon imi baba kolon imi ngayat kolon i tan nge wawama nge wawama nge wawama loutine la guine et puis je lancé un appel mire nge wawama eh eh boke wawama profet keri wawama 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 kishiboké mwara mire mwara mire mwara 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 surumi anu mwara imi mwara kialfe kamakolonama as ga sogoboli agrikatouma asa dogo dabankoumineba amato kasare ngan sara ngan sara kima kolon fwa fe satana yana ma i dogo ynu furontu inga kiri yata gini sa proka yinaki kiri zero kiri i kana nana nara wawama 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 i kini yaks l'andu ma wawama wawama kineh i kima tomah inga kiri nana yas mo desor babane paske patou sa existe mwawama wawama wawama mwawama wawama 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 няя wawama 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. ma che dei gatti non ci servono, ma che ti fa parte. Perché tu sei un profeta, cosa vuol dire? Non ci interessate, non ci interessano, tui e ton giovaneur, i gatti, ma che non ci interessano, ma personale mi fanno, ma ferma il mi fanno, non ci interessano, non ci interessano, non ci interessano, non ci interessano. non c'est pas moi non c'est pas moi Alpha decide di fare cosa? non è difficile decidere non farò non farò cosa manifestano e si manifestano le manifestano le manifestano la condizione di ammigliore la salari è via non è vero fattigia Si 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 opp ultimate, si 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 sup 하나 ond accessible, si 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 e l'иниlli che non sono attraverso il seguito. molte reclame oggi Banasco e quindi non sono così. Ma alcuneZisi! Mi sento dal Banasco. Non, Banasco e non mi arrastre molto. Non. Non mi arrastre. Non mi arrastre alla mia balla. ma dalla camera che ne vediamo sei cheona anche questa cosa chi andrew però tu che questo tutto ti tu non irasiammi rima a pre w ramassi ma araba allo ma romagna parce que l'unat d'abafi la genera non nomifen l'agenermo nga do a omatoma ivrog80 wangisys non abafa l'agener parce que vous avez le pouvoir aujourd'hui and finita nakinara un film et bertha vanaakina don fourlakina can'anga laggynema kitti mimi moutini commande quindi il profeta di Bokebe è stato un po' di chiama mi ha detto che era avanti i bambini i tangenti i gai interiore i gai e temassi i gai un po' di chiama in Chino i gai un po' di chiama i Bokeba i gai un po' di chiama i gai un po' di chiama i gai un po' di chiama sono sempre un camionneto! Io sono ora! Qui si senti? Vediamo alla mia mamma Il mio card hatten Dio, il mio padre non mi parlava no fuori Non è so ne fosse Non è! Però io ho un po' sempre Che cosa добi Mi sei voulo! Che cosa si ti ti fa! Che cosa dobbiamo! Questa è la mia! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. e il città l'unico la città è col tu penses qu'on te regarda su Elage Abdoulaye tu quittes là bas et tu descends là bas e non c'est là qu'il va et arabe saoudite et ensuite l'islamique c'est à cause de ce dernier là il est allumé il est comme Kassori un nifè amirito il est allumé la birtom il est allumé la birtom c'est qu'il faut qu'il soit il fournir le flamme le seul fait il peut-être qu'il ne vous a pas dit mais c'est un chrétien l'alpha n'a jamais prié c'est comme la tée de l'église des fois de temps en temps chrétient tutti ii quindi ora fa perché che mi pareva struttelare è bene ma è troppo tard per voi al pazzo non è un musulmane non e poi c'è un franzai c'è un franzai Alifazzo non è tutto il marino non è qui iniziata ma è il torno non ahè ma è inizia non è finito isso significa che waited ipperrico che a mandato ho uscito ho il tempo durante 5 anni credo che aveva viscola che ris müsbbero ris ma non è il fatto meno cosa è zero. Un'iserablemente. C'è quello che facevano, è quello che fa. Non si του santo, bowlare due giorni e pote, non si ci sono mai dato più vengere. C'è quello di santo che fa? In mezzo in mezzo nel mondo, magari gli potevano in Italia, ma mia mia mia, ne sono mai vengate, non si mette il giorno prima di che noi. Non, non. Ne sono mai avanti, non è ancora. ma l'argomento è già non ci sono una volta a me lavorare correttamente ma ora abbiamo deciso di lavorare correttamente il paio anche Maragó ma ora non si può fare la nostra attrazione